Io sono per Cuperlo perché sono convinto che occorre spostare a sinistra la proposta politica del Partito Democratico. Il nostro partito ha bisogno di rappresentare di più e meglio i cittadini popolari, i disoccupati, i giovani che non trovano lavoro, i prenditori che ci provano ma che hanno difficoltà con il credito, chi vuole produrre, chi si impegna sul versante della ricerca. Poi diciamo la verità, Cuperlo è diverso, non è un conformista, non si batte per se stesso e per il proprio successo. Cuperlo si mette a disposizione del partito e questo oggi ha un valore grande e anche controcorrente. La sinistra che non rinuncia ai suoi ideali, non rinuncia ad una battaglia di emancipazione, soprattutto dopo il processo di impoverimento che le politiche di rigore, la crisi finanziaria, le politiche volute dalla destra europea hanno prodotto nel nostro paese. Musica Musica Musica